Il turno infrasettimanale costringe Lavis-Pesero alla seconda sconfitta consecutiva in tre giorni. Dopo il 2-1 di Cesena, Lavis deve arrendersi alla qualità di un altro avversario d'alta classifica, il Pescara di Auteri, che vince al Benelli con un gol per tempo. Apre le marcature Cernigò al nono minuto dentro un quarto d'ora con tre legni, compresa una traversa di Cannavò e due pali per il Pescara. Poi chiude il discorso nel secondo tempo, Zappella al sessantesimo. La verità ci dispiace perché siamo stati dentro la partita e il primo gol, quando fai il calcio d'angolo e difendi a uomo, la spiegazione è già quella. Purtroppo l'abbiamo difeso non al massimo, però Cernigò è un attaccante alto strutturato e ci ha fatto gol. Bene, abbiamo messo giù la testa, anzi prima di quello eravamo partiti molto bene, con Cannavò la traversa, i ragazzi erano dentro la partita. Io l'avevo anche detto, sapevo che avevamo speso molto nella gara di Cesena, quindi non era facile ritrovare la stessa energia. Però devo dirti, come hai detto tu, che siamo stati dentro la partita, abbiamo provato anche a proporre qualche cosa nel nostro momento migliore. e purtroppo è successo il secondo gol, la palla è rimasta dentro, un errore, sì, una serie di errori sul secondo gol, due errori, e purtroppo abbiamo preso il 2-0 nel momento in cui i ragazzi comunque ci stavano credendo. Ci abbiamo provato fino alla fine, siamo oggi come oggi, dovremmo riposare una settimana, però niente, dobbiamo aspettare, dobbiamo mettere giù la testa e pensare che tra tre giorni c'è un'altra partita difficilissima. Avversario difficilissimo come è Lentella, quarto in classifica, che domenica farà visita al Benelli. Peggiore degli avversari che ieri sera è capitato pure alla Megabox Vallefoglia che a Urbino ha sfiorato l'impresa contro le campionesse d'Italia ed Europa dell'Imoco Conegliano. La squadra di Bonafede ha infatti ceduto alle venete di Paola e Gonu solo al tiebreak. Una Megabox Maidoma, nonostante le assenze di Alanco, Newcomb e l'infortunio in corso d'opera di Košleva è riuscita comunque a vincere primo e quarto set prima di arrendersi al quinto per 11-15.